Lo scorso venerdì 13 luglio sono passato dal punto vendita di Buscemi Hi-Fi in corso Magenta a Milano per controllare il proiettore Dream Vision e il sistema Home Cinema con diffusori Magico Serie A che sarà in dimostrazione giovedì sera 20 luglio e venerdì 21 per tutta la giornata. Ad attendermi c'era Mauro Sbronzeri che si è occupato del setup della parte audio che prevede un sistema in configurazione Dolby Atmos 5.1.4 con diffusori Magico A5 e ACC davanti, una coppia di Magico A3 dietro e un sub A-sub. Andiamo nelle segrete stanze di Buscemi Hi-Fi. Nei pochi minuti a disposizione ho verificato il bilanciamento del bianco e la luminanza sullo schermo da 2,7 metri di base con tre livelli di potenza del sistema di illuminamento. Per la riproduzione di contenuti con gamma dinamica standard useremo la potenza più bassa con diaframma leggermente chiuso, con ben 60 candele su un metro quadrato e rapporto di contrasto nativo molto alto. Con segnale HDR passerò invece alla potenza intermedia che ci garantisce già 120 candele su un metro quadrato, più che sufficienti per il massimo del divertimento con ottimo livello del nero e senza sollecitare troppo il sistema di raffreddamento. Sarò di nuovo da Buscemi mercoledì pomeriggio per terminare la calibrazione del proiettore e per la verifica della calibrazione audio operata da Mauro e anche per la selezione delle clip che saranno proiettate giovedì e venerdì prossimo.